In diretta il buongiorno in blu del sabato, ancora buongiorno da Ugo Scali, Lorenzo Sada, parte tecnica, viene a trovarci questa mattina direttamente dalla campagna da Caivano Antonio Marciano, presidente Wisp Campania, buongiorno a Tonio, ben svegliato e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. A Caivano le associazioni del territorio puntano sulle attività, lo sport e i giovani per reagire al degrado e alla solitudine, il progetto si chiama La Bellezza Necessaria, che bello già il titolo, La Bellezza Necessaria, lunedì è iniziato praticamente questo nuovo iter del progetto promosso da Wisp Campania, insieme con dieci associazioni del territorio, sostenuto dalla Fondazione Conil Sud e oggi prende via anche un corso per allenatore, educatore e insegnante di calcio. Come dire che il degrado si combatte anche, quasi vorrei dire, soprattutto con lo sport, soprattutto poi se lo insegni ai ragazzi, ai giovani, che sono il futuro? Sì, Caivano ha bisogno di alternative e di alternative forti sul territorio. Lo sport, secondo noi, ha la potenza e la forza per poter dare una serie di alternative importanti e per poter fare in modo che, grazie a tutte le caratteristiche intrinseche allo sport, che sono l'aggregazione, lo stare insieme, il poter giocare insieme, abbiamo fatto questa scommessa e io sono certo che la vinciamo. Ebbene, uno che si mette in testa a un progetto del genere deve assolutamente essere convinto e superare anche quelli che sono gli stereotipi di chi magari dice va bene, ma cosa vuoi metterti lì, tanto si sa lì, si tratta prima di fare dell'altro, però no, c'è chi, come appunto Antonio, ecco, dice io ci metto del mio, la Wisp ci mette del suo. Grande esperienza su tutto il territorio nazionale, nell'unire nel nome dello sport tutti che si arrivi da nord a sud e si riesca anche a costruire qualcosa che poi resti per chi vive appunto a Caivano. Sì, la Caivano c'è, per quanto poi si racconti, ma c'è una grande forza popolare. Il quartiere là, il Parco Verde, è particolare, nel senso che là sono 43 anni che questa gente è stata, tra virgolette, messa lì, buttata lì. 43 anni, cioè non è un gioco, ci sono scordati, è stata una stagione, poi si è messo il cof, no, 43 anni. 43 anni, là proviene dal posto terremoto dell'Irpinio, nel Parco Verde, in cui famiglie napoletane furono portate appunto lì a Caivano, dovevano avere delle sistemazioni provvisorie. Io parlo con i ragazzi del posto, con chi è arrivato a Caivano magari negli anni 80 e là mi dicono che addirittura mancavano addirittura le finestre alle case. Ma doveva essere una sistemazione provvisoria, hai capito? Sì, sì, quella era una sistemazione provvisoria. Peccato che poi sono passati 43 anni. Come purtroppo spesso accade, ecco, passano gli anni e le persone poi si abituano. Il problema è questo, che le persone poi si abituano e là le persone sono state abituate a non essere cittadinanza attiva e quindi ad aspettare quello che poi lo Stato o altro gli facevano ricadere là su quel territorio. Però noi siamo partiti con questo progetto appunto vedendo una forza del territorio e io credo che è proprio questa la chiave. Dare forza a questo territorio e ovviamente strutturarlo. Ci vogliono organizzazioni come la nostra in quanto molte associazioni non sono molto strutturate, ma c'è tanta voglia e ci sono tante energie. Dobbiamo soltanto dargli quel poco per metterle in moto e per farle organizzare per bene, secondo me. Sì, perché ci vuole qualcosa di strutturale, in buona sostanza si dice Antonio, che sia capace poi di dare risposte. Perché se tu vai in un posto, che sia Caivano, che sia un altro quartiere difficile o facile della nostra bellissima e a volte sofferente purtroppo Italia, è che non è che puoi andare lì, dare una cosa, poi fare la cerimonia e poi te ne vai tanto, vabbè, andiamo avanti. No, devi sostenere, devi dare un progetto e devi portarlo avanti, supportarlo, dare i mezzi. Poi per crescere da soli ci mancherebbe, non si tratta di assistenza per sempre, ma devi comunque essere un, tra virgolette, professionista, visto poi che si parla molto di operatori professionisti nello sport anche e di base. Non è questo momento di parlarne, ne abbiamo parlato molto spesso in questa trasmissione e ci torneremo ancora. Quindi voi avete messo a terra davvero un progetto particolare. Mi piace anche proprio oggi il corso per allenatore, educatore, insegnante di calcio, ma potrebbe essere qualsiasi altro sport. Sì, abbiamo scelto il calcio come questo primo corso, perché ne faremo altri. Appunto, ripeto, oltre per dare un'alternativa a questi ragazzi, ma proprio perché bisogna strutturare il territorio. Noi al momento abbiamo iniziato il progetto mandando lì ovviamente operatori da tutta la Campania, ma là c'è bisogno di stare là. Quindi l'operatore nasca da lì, si formi, venga formato e poi continui lì. Sì, sì, sì. È bellissimo, è bellissimo questo. È una ricetta che sarebbe esportabile in qualsiasi posto. Il fatto che nasca Caivano, che venga ancora una volta fatta nascere in un posto come Caivano, che abbiamo imparato, se non altro, a conoscere proprio anche in questi ultimi mesi, purtroppo per fatti di corona canera, ma poi anche per una voglia davvero di riscatto e pare di attenzione anche da parte delle istituzioni, non può che essere salutata come una buona notizia. In un minuto, qual è il tuo desiderio più grande in questo momento di ripartenza, Antonio? Guarda, Ugo, il mio desiderio è riuscire a costruire in quel posto un qualcosa di alternativo e di diverso oltre a quello che c'è. Alla fine a Caivano sono 6 mila abitanti nel parco verde, e c'è una macelleria, una scuola, un istituto comprensivo e una chiesa. Quindi immagina 6 mila persone lì, tra cui mille minori, che poi ci meravigliamo che sia diventata la piazza più grande del piazza di spaccio più grande. Ma doveva essere una cosa provvisoria, per quello che non hanno messo neanche i negozi. Meno male che c'era una sola chiesa. Vabbè, Antonio, guarda, ci stanno per togliere la linea. Facciamo che tra qualche settimana, magari in vista del Natale, ci facciamo gli auguri anche a Caivano, soprattutto da e a Caivano. Perfetto, perfetto e buona giornata a tutti. Presidente della Wisp Campania, Antonio Marciano, tra poco torniamo con le ultime notizie.